Gli aretini hanno la stessa dignità di cittadini di tutti gli altri cittadini toscani e gli aretini devono avere la stessa possibilità di accesso alla cura, anche quando la cura si chiama hospice. Appena una settimana fa era stato l'ex direttore delle cure palliative di Arezzo, Pierdomenico Maurizzi, a lanciare una petizione affinché Arezzo torni ad avere un hospice. Stamattina eravamo sopra 2.600, stanno ancora arrivando, questo qualcosa la vorrà significare insomma. Un rapporto complicato, quello tra la città di Arezzo e il tema delle cure palliative e del fine vita, che a quanto pare non trova una soluzione. No, siamo in una fase che se non fosse tragica sarebbe comica, perché l'hospice fu sfrattato il 26 di marzo dalla palazzina cosiddetta Calcet e trovò la sua prima ospitalità temporanea in l'RSA di Pescaiola, grazie a Coenè, dopodiché è stato sfrattato anche di lì, per cui si va nella sede temporanea della sede temporanea. Voglio ricordare che l'hospice di Arezzo è stato finanziato dall'allora ministro Bindi nel bienio 98-2000 ed è stato inaugurato nel dicembre 2017, quindi poi è diventato operativo in effetti nel gennaio 2018, quindi sono passati 18 anni dal suo primo finanziamento e Arezzo è stata l'ultima città toscana ad avere un'hospice, che ne so, Poggi Bonzi, Siena, Nottola, hanno tutti l'hospice per rimanere qui vicino. Ecco, Arezzo è stata l'ultima città toscana ad avere l'hospice, una delle ultime città d'Italia e adesso l'hospice non ce l'ha più. Vogliamo ricordare che questa è una battaglia di civiltà, di uguaglianza, come ha detto lei, insomma, di dignità, di dignità anche se fosse dell'ultimo giorno di vita, perché dobbiamo dire così. Certamente. L'hospice, per chi ancora non lo sapesse, è la struttura sanitaria dove vengono accolti, quei malati, con malattie molto complesse, spesso quei malati in fin di vita, per i quali l'assistenza domiciliare è molto complicata e il ricovero in ospedale non è più indicato. La politica si sta muovendo, si sta muovendo bene e in modo bipartisan, cioè recentemente, una settimana fa c'è stata una risoluzione del Consiglio Comunale che si è espressa a favore non solo dell'hospice, ma anche della cittadinanza e della salute con il rifacimento e il recupero e la messa in sicurezza di quelle strutture faticenti, crollate, che sono di là dalla cosiddetta palazzina dell'orologio. Quindi la politica è sicuramente lanciata bipartisan verso la soluzione del problema.